Sono veramente onorato, non me lo sarei mai aspettato che comunque mi prendesse così in simpatia e Blur è uno che sposta proprio persone. Grazie a lui anche che molta gente mi ha iniziato a seguire, però sono rimasto un pelino deluso, perché mi aspettavo una chiamata in quel famoso mondiale che si è giocato appunto. Ciao ragazzi, io sono Benve e io sono Jenny e questo è Centrocampo. Allora, ritendo e scherzando, oggi abbiamo raggiunto il quattordicesimo episodio di Centrocampo. Settimana dopo settimana abbiamo sempre più fan che crescono incredibilmente, infatti vi chiedo la gentile cortesia sulla fiducia, sulla fiducia lasciate un like, lasciate un commento, quello che vi pare, pure Jenny sei uno stronzo. Ma anche perché quest'oggi, dopo che abbiamo portato tante volte un calciatore, un ex calciatore, un calciatore che cazzo dico, ancora non abbiamo portato un calciatore. Come no, CR7, il calciatore più forte della storia del calcio. Rispetto per CR7 ci mancherebbe altro, però nella mia mente avevo un calciatore proprio di un livello già abbastanza alto, diciamola così. Però, ex calciatore, influencer, ex calciatore, un imitatore, un rapper, quest'oggi che abbiamo? Uno che ha fatto il calcio vero, che conosce questo tipo di terreno, quindi oggi è quello che sta più a casa di tutti. Ma soprattutto abbiamo portato la prima volta un portiere, caro gente. Abbiamo portato un portiere, quindi quest'oggi abbiamo l'onore di schialare qui con noi a Centrocampo Dile GK! Ah, anche GK, vai GK! Ciao a tutti, è un onore essere qua. Prima di iniziare volevo dire una cosa. A me piace un sacco fare queste interviste, infatti ho iniziato a seguire lui subito Centrocampo perché volevo esserci, infatti speravo in una vostra chiamata. Ed è arrivata, proprio l'altro giorno. E quindi siamo qui in questo momento a Centrocampo, mi dispiace, tu solitamente sei un po' più indietro, il Centrocampo lo vedi da più indietro, però oggi direi, partiamo subito con un'intervista, visto che abbiamo un portiere. Io, innanzitutto, la prima cosa che voglio sapere, come praticamente facciamo sempre con tutti gli ospiti, e chi sei, per chi non ti conosce, dove nasci, in che contesto, perché poi ti approcci al calcio? Allora, inizia tutto quando avevo 5 anni. Prima mi presento, Alessandro Di Lernia, nato a Saronno, ho 22 anni e niente, mi interfaccio col mondo del calcio appunto a 6 anni, grazie, questo lo so in pochi, al mio miglior amico d'infanzia, lo conosco da quando ero all'elementare, dalla prima elementare. Lui ora gioca a basket, però era un po' un copia e incolla, nel senso, lui giocava a basket, io giocava a basket, io giocava a calcio, lui giocava a calcio. Lui iniziò a fare il portiere e da lì è iniziata anche a me sta cosa di fare il portiere. Mi è piaciuta, lui poi ha fatto il settore giovanile al Monza, tutto il percorso al Monza, poi dopo ho dovuto decidere tra calcio e basket, scelse il basket, io però poi ho continuato col calcio. Dove comincia la tua carriera calcistica e poi come procede nel corso degli anni? Allora, tutto inizia nella squadra dove sono nato, Saronno, che adesso si chiama Robur, la società si chiama Robur. Io inizio lì, faccio i primi due anni lì, poi dopo vado via, vado in un'altra società, che tra l'altro è Caronno, Caronnese, che adesso milita in eccellenza, fino a due anni fa era sempre in Serie D. Lì faccio solo un anno e poi avevo l'intenzione di smettere di giocare a calcio, perché per la prima volta si era creata questa cosa qua, ovvero che c'era il mister Portieri che era il padre del Portieri con cui giocavo. E sta cosa qua mi ha fatto perdere tutto, poi essendo in età giovane, non giocare, poi lì era, mi sembra, un campionato regionale, nazionale, comunque il livello si era alzato e giustamente col mister Portieri, non farò nomi, non farò nomi, tra l'altro non me lo ricordo neanche. Però sì, mi ha fatto un po' perdere la voglia di giocare, ma meno male, grazie ai miei genitori, soprattutto a mio padre, mi ha detto non mollare, non mollare. Tanto è pure buffa la storia, perché da lì avevo l'intenzione di smettere totalmente. Faccio una 12 ore, sai quei tornei a 5 che fai, 12 ore, anzi 24 ore, del mio quartiere, ma c'era una squadra scarsa, scarsissima, però lì c'era un osservatore dell'Accademia Inter e mi ha detto dai vieni a fare il provino, così, e da lì poi ho fatto tre anni lì per poi dopo saltare nel professionismo con la propria. Il Berardi di Saronno, il Berardi di Saronno, più o meno sì. Incredibile. E poi come continua, arriva una chiamata da una squadra importante, abbiamo saputo, abbiamo letto, insomma, il tuo curriculum da calciatore arriva fino ad un livello discreto, diciamo, no? Allora, sì, appunto, si inizia a far sul serio quando vado in Accademia Inter. Anche lì, io ho fatto tanta panchina, davvero tanta, mi ha servita. Sì, appunto, primo anno c'era sto portiere qua, che tra l'altro l'anno prima aveva vinto il campionato, quindi l'Accademia Inter aveva vinto il campionato, e hanno deciso di confermare questo portiere. Loro inizialmente mi hanno chiamato per fare il secondo, però dentro di me ho detto l'Accademia Inter è uno dei centri, poi ci sono alcune annate, io penso che l'Accademia Inter, o comunque società tipo Aldini, affiliate a Milan, Inter, così, hanno veramente giocatori validi per il professionismo. Infatti, per me è stata una chiamata straimportante, però mi sono accorto di avere tante lacune, quali ad esempio il tuffo deve essere fatto in una determinata maniera. Paravo, perché paravo, però i gesti tecnici contano. E lì peccavo un po'. Infatti il primo anno, tra l'altro mi era pure andata bene che la prima partita si fece male il portiere, che tra l'altro è ancora mio caro amico, e forse lo conoscete, Alessio Buono, non so se è quello dei GKickers, è con lui, vabbè, comunque... Io lo conosco, con lui invece proprio... Io, ripetiamo sempre, sono fuori dai soci, non ho il profilo personale. Ah, lo sai? No, qualche puntata, perché si parlava di Gottlieb che è congepata e... La prima cosa, quando ti vedi, dici... Ma chi è questo? Benvesi, ok, magari lo conosco un po', ma questo chi cazzo è? Sono un'entità che gira nel... Esatto, nel mistico, che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Prima partita si fa male, prima partita del campionato, seconda partita era contro la Masseroni, che è di Milano, sicuramente conoscerà queste società, e lì, primo esordio, primo esordio con la squadra, Accademia Inter, sì avevo fatto qualche torno in estivo, ma nulla di che ancora. Campionato, lì poi Accademia Inter, società come Alcione, Accademia Inter, Aldini, vogliono vincere, cioè non ci sono cazzi, cioè devono per forza vincere. Primo pallone che tocco, faccio, penso sia stata la mia prima, la mia prima papera e ultima, cioè proprio, lui secondo me non voleva neanche tirare, da centrocampo fa tipo un cross, vado così con le mani, mi passa in mezzo gol, cioè proprio psicodramma, psicodramma, vado proprio in depressione, cioè continuo a giocare, fa un altro tiro dalla tre quarti, mi buca, cioè c'è da dire anche questo, non per forza le azioni positive. Io ho iniziato proprio peggio, nel peggior modo possibile, infatti da lì non vedrò più campo se non partite facili. Però diciamo sei partito con una bella botta negativa che però magari ti ha fatto esperienza. Mi ha fatto, sì sì, tantissima esperienza perché, vabbè, il portiere che appunto adesso è buono è veramente forte anche lui e poi comunque era il mio primo anno che facevo un campionato così forte e diciamo che mi è stato utile guardare, apprendere e poi ringrazio anche il mister portieri perché sapeva molto giocare e allenare, cioè sapeva quando giocare e allenare seriamente e questo mi ha dato sicuramente molto aiuto per il continuo della mia carriera. Ok, e per quanto riguarda l'esperienza alla ProPatria, essendo che comunque tu, se non sbaglio, eri nelle giovanili, poi sei passato, sei stato aggregato alla prima squadra, mi hai detto prima off camera che in realtà però non hai praticamente mai giocato, fatto sempre tanta panchina, però sebbene tu abbia fatto solo panchina, quanto hai appreso da comunque un club di serie C dove hai giocato tra l'altro con uno come gatti e quindi poi tu mi ricollego ad un'altra cosa e ti faccio un'altra domanda dopo. Allora, in Accademia Inter non c'è la prima squadra, quindi arrivato agli allievi nazionali, regionali, ma non mi ricordo, devi per forza trovare squadra. Cioè comunque ti aiutano loro, cioè la squadra ti indirizzano loro. Di quella dell'ultimo anno dell'Accademia Inter stavamo per vincere il campionato, siamo usciti in semifinale contro l'Alcione, però avevamo fatto tutti un anno, cioè eravamo la miglior difesa del campionato, avevamo subito pochissimi gol e niente, infatti tutta la difesa più qualche giocatore in avanti è stato chiamato in società professionistiche e appunto ci fu la chiamata dell'Aurora Pro Patria e niente, vabbè, senza pensarci due volte ci vado e anche lì mi interfaccio con i primi problemi, lo dico chiaramente, mister che proprio se la sentono perché è professionismo, anche lì con la promessa di giocare, perché io vado lì il primo anno e ero Beretti, cioè quindi non prima squadra, nessun allenamento prima squadra, solo Beretti, però anche lì in molte società professionistiche è così. Se il terzo portiere della prima squadra appunto è l'under che poi scende con la Beretti per giocare, appunto si allena sempre in prima squadra tutto l'anno e poi solo scende per giocare. Infatti io sapevo di questa cosa e appunto chiedo, mi informo e mi dicono no, no, il terzo portiere rimane su e io quindi avrei dovuto giocare, ma non per raccomandazione, però è giusto sapere perché se devo venire lì per poi non fare una presenza, cioè tanto Certo, per sapere il ruolo che andrei a ricoprire. Con FIFA, quando tu fai con FIFA, sì. La proposta che ho visto, giocatore sporadico, chiave, importante, futura stella. Esatto. Sì, sì. Più o meno funziona così, cioè funzionava così e niente, mi promettono, no, no, lui rimane su, rimane su, rimane su. Non è mai stata così, infatti però mi va di lusso che il secondo portiere della prima squadra si fece male, allora per tra quattro partite inizialmente non scendeva il portiere, il terzo portiere della prima squadra non scendeva. Le faccio bene, faccio il mio primo esordio con i professionisti, ovviamente parlo di Beretti, non di prima squadra Serie C, con Novara, che era la più forte, la più forte del campionato, erano i favoriti, diciamo così. E niente, faccio una bella prestazione e anche lì tanta pressione, appunto avevo somministro ai portieri qua, che tra l'altro ho fatto cacciare durante l'anno, poi ve lo spiegherò, sì, è successo un episodio particolare, sì, un episodio particolare. Tu l'hai fatto cacciare? Ho fatto cacciare io, sì. No, in realtà anche lì avevo intenzione di smettere, di mollare, perché era successo un episodio, lui andava, cioè ci andava forte con le parole, cioè se facevi un errore o comunque non capivi quello che ti spiegava ci andava forte, anche qui. Forte il tipo? Forte tipo sei una merda, cioè proprio sei una merda, non sei della categoria, sei l'ultimo portiere con cui giocherei ed ero il suo portiere. Cioè non è che dici… L'opposto di quello che dovresti fare con un giocatore per incitarlo un po'. Cioè capisco… Faccio così perché le quante si vede. Capisco che quando sei in una società comunque importante, un po' di mascolinità, chiamiamola così, ci vuole, perché devi far capire che sei comunque in un club importante, ti stai giocando a determinati obiettivi e non sei più a cazzeggiare all'oratorio, però d'altra parte, cioè, sempre un po' di tatto, è il modo adatto per far crescere un ragazzo e non farlo deprimere e farlo andare via dalla tua società, ce lo devi avere. Però parliamo sempre di serie C comunque, cioè finché si tratta di allievi, io in ora se ci sta che comunque tu a un ragazzo non gli puoi dire quelle cose, però senza serie C, cioè qui si forgiano gli uomini, amico. Vabbè, ma io non credo che se tu vai in un club di serie B o un club di serie A al preparatore dei portieri di Pinsoglio, nel preparatore dei portieri di Sportiello, gli venga lì a dire sei una merda, sei l'ultimo portiere con cui giocherei. No, dipende, sicuramente se sbaglia una cosa non gli va a dire tranquillo, andrà bene la prossima volta, no, gli dice che cazzo fai, prendi due milioni di euro l'anno, tu fati meglio. Sicuramente un po' di cazzino ma ci vuole. Poi io, siamo diventati tutti più soft, cioè non ti sei po' di sei una merda che ti metti a piangere, mi fai pure cacciare. Però secondo me non è proprio l'approccio più giusto, cioè dire sei una merda comunque ad una persona, con quale umanità, con quale, non coraggio, però per quale motivo tu ti ti approcciare ad un, comunque anche ad un tuo dipendente, cioè uno che lavora per la stessa società in cui lavori tu dicendogli sei una merda. Certo, certo, però tornando a te, che diciamo che sei il soggetto dell'argomento, a te ti ha demoralizzato e ti ha quasi anche infastidito, ti ha fatto nascere risentimento piuttosto che spronarti a fare meglio? Sì, cioè ha avuto solo effetti negativi questa cosa qua, appunto perché, vabbè, la prima partita, ritornando sempre alla prima partita, la feci benissimo, infatti mi riconfermano per la partita successiva e poi dopo appunto iniziano i primi problemi perché feci un mezzo errore che io ancora oggi dico che secondo me non erano miei errori, comunque miei mancanze invece per gli ministeri portieri era colpa tua. Sì, diciamo che ce l'ha sempre avuto con me perché appunto questo portiere qua della prima squadra, poi era stato chiamato polinazionale, cioè era un portiere fatto per me, cioè un buon portiere e appunto dal punto di vista tecnico se già comunque in Academy Inter ti rompono per queste cose qua, figurati nel professionismo, cioè guardano bene le mani, poi essendo portiere devi essere anche bello, cioè loro guardano anche quello perché poi anche il mister portiere comunque ha il suo punto di vista e poi ogni mister portiere ha sé, cioè ti dice che devi parlare con le gambe, cioè con le gambe larghe, strette, ogni mister portiere ha le sue. Però ritornando al perché l'ho cacciato via, cioè è stata colpa mia sì perché io ho detto dopo questo avvenimento qua, c'è stato proprio un allenamento che mi ha detto dai vai a cambiarti, non voglio più allenarti, sei il portiere più scarso, lì proprio sono impazzito anche perché era a metà stagione e non giocavo, eri entrato dall'infortunio nel secondo portiere della prima squadra e quindi di conseguenza il terzo portiere ogni domenica scendeva e mi rubava il posto. E niente, era un periodo dove non giocavo, già ero nervoso, in più sentirmi dire queste cose qua dal mister portiere non faceva altro che mettere ulteriore legna sul fuoco e prendo, me ne vado via dagli allenamenti. Durante l'allenamento roba proprio non è da me, non è da me, cioè poi essendo portiere sono abituato a insulti, comunque a compagni sfai errori, ma come giusto che sia. Poi ho una tolleranza altissima, però secondo me lì aveva proprio esagerato e comunque anche lì era un periodo dove se non giochi va bene che sei nel professionismo, tutto quanto, però anche lì perdi un po' la voglia e lui poi facendo così me l'ha proprio fatto perdere il tutto. Arrivò poi il mister, non dei portieri, il mister della squadra e mi disse ma perché Dile non, cioè hai smesso di allenarti, non è da te, so che stai mangiando merda, si dice, si può dire, stai mangiando merda sempre, mi dispiace perché tu sei un portiere molto forte, però sai le dinamiche, gli faccio sì sì ma non è per quello, sì anche, sono nervoso anche per quello, ma per questo avvenimento qua. L'allenamento io gli faccio al mister, guarda mister se è così io non vengo più, non vengo più, piuttosto smetto anche di giocare e l'allenamento dopo mi chiama il mister, io invento che ho la febbre lì, mi fingo malato, il giorno dopo dovevamo allenarci, mi fingo malato e da lì il mister ha capito che la mia intenzione è quella di smettere completamente, ma mi chiamò il direttore sportivo e mi disse guarda Dile alla fine abbiamo fatto sta decisione, abbiamo preso sta decisione e il mister portieri l'abbiamo cacciato perché perché appunto si è comportato male, non si trattano così i ragazzi e secondo me non ti portava dei benefici farti trattare così. Ma anche perché tu potevi andare a sparare merda di brutto su questo mister portieri e anche la società lo diciava, cioè... Sì, però lui ha fatto un bel gesto il direttore sportivo, cioè a mia insaputa però si capiva era in viva voce, cioè mi fa ripetimi per favore cosa ti ha detto, io non sapevo che c'era il mister portieri che ascoltava la chiamata, però io ho detto la verità e il mister portieri mi disse no ma hai frainteso, cioè le parole sono quelle, non penso che se è una merda si tipo abbia mille sfaccettature. No ma sei una merda significa che in realtà ti voglio bene. No però in effetti dove sto io più ti insulto più ti voglio bene. Ma tu sei un caso particolare, infatti piano piano ti stanno conoscendo, sei il 14esimo episodio, tu sei un caso particolare, un caso a parte, infatti avere a che fare con lui non è facile, ridiamoci sopra. Mamma mia. Però vabbè invece per quanto riguarda sempre l'esperienza alla propatria, a parte questo inconveniente, come hai vissuto l'esperienza con Gatti quando hai avuto la possibilità di interfacciarti con lui? Visto che io sono juventino, no? Lo possiamo dire? Purtroppo. Va bene, grazie. Rimarcalo ogni volta. Ogni volta, sottolineiamolo. Il centrocampo, cioè il podcast è bellissimo, c'è solo un difetto. Tu? Il tifo? No, tu no. Il tifo è bianco-nero. Vabbè, primo anno così, secondo anno appunto mi riconfermano, però da lì ero il terzo portiere della prima squadra, quindi ogni allenamento in prima squadra. Inizio anche lì, facevo praticamente quello che faceva il portiere l'anno scorso, rubavo il posto a quelli della primavera, Beretta, adesso si chiama primavera. Però anche lì gioco tutte le partite, faccio un campionato, tutte presenze, in senso non ne ho mai mancata una di partita. Di Le Prime? Di Le Prime, sì. No, davvero lì era il periodo dove mi sentivo davvero forte, perché allenandoti con una prima squadra dove in Serie C è calcio vero. Calcio vero. Calcio vero. Diciamolo, calcio vero. Calcio vero e... Hai capito, Fradino? Vieni anche te a centrocampo. Esatto, vieni. Vogliamo la seconda parte 2. La risposta, la controrisposta di Fradino. E... Tra l'altro Federico Gatti, per menzionarlo, non era titolare in Serie C. Si fece male il titolare, si chiama Lombardoni, che anche lui ha fatto la trafila all'Inter. Adesso mi sembra che gioca ancora lì in Propatria. Appunto si è fatto male, si è rotto il crociato, ma non mi ricordo. Lui e aveva fatto un buonissimo campionato. Tra l'altro mi sembra che faceva pure il centrocampista e comunque parlandoci già dei primi allenamenti parte a essere simpaticissimo. Fa che comunque era un traguardo immenso perché lui è partito dalla promozione, ha fatto eccellenza, ci ha fatto proprio la scaretta. Io ho fatto un po' il contrario adesso. Ho fatto Serie C di eccellenza. Adesso sono... Got League. In promozione e Got League. Inizialmente eravamo vicini in spogliatoio. Diciamo che i portieri avevano praticamente uno spogliatoio a parte. Non ho mai capito questa cosa, però c'era tipo uno scompartimento lì solo portieri. Però diciamo che ogni trasferta eravamo in camera assieme. Lui mi chiamava Leone, io Tigre. C'era veramente un bel rapporto tra me e lui. Perché vinculavate? No, 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 no. Non lo diciamo. Succedeva ma non lo diciamo. Tra l'altro mi hai detto scompartimento e questo. Mi è venuta in mente una battuta di Checco Zalono. Di Checco Zalono è quando va su a Milano nel film, il primo film. Cado dalle nubi. Ma hai fatto uno scompartimento per questo genere? Comunque tu so tre puntate di Checco Zalono. Cioè tu Lui 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 è l'unica filmografia che conosce nella vita sui film di Checco Zalono. Ma no, perché vengono le battute, no? Con Checco Zalono. Vai, vai. Sì. Vabbè, torniamo. Quindi vinculavate voi? Sì, ci inculavamo. Vi lavate i denti insieme. A sangue, sì. Con lo stesso spazzolino. Con lo stesso spazzolino, sì. No, con il suo dito. Esatto. Facete così. Dai, basta, vi prego, che schifo. Salutiamo gatti, dai. Vabbè, Lui era un pazzo. Diciamo così, proprio un pazzo. Però aveva fame. Aveva quella fame agonistica che, per dirti, sai il torello, preallenamento, i passaggi, preallenamento, così. Cioè Lui proprio, lo sentivi, era proprio, cioè proprio, quasi orgasmo però, vabbè. No, vabbè, anche lì proprio voleva, non voleva mai stare in mezzo. Comunque se stavi in mezzo tu avevi paura di Lui, cioè perché ti entrava male, scivolate. Infatti, per dirti, qualche mese fa sono andato all'Allianz Stadium a vedere lui, a vedere Federico Gatti. Anche lì, cioè, era come pro patria. Cioè, ogni palla alta di testa, proprio urla. Cioè, Lui urla, non gliene frega niente. Proprio il calcio è la sua vita. No, davvero, davvero. Tu quindi guardandolo l'hai visto sia crescere, sia avevi mezzo capito che era un calciatore che poteva arrivare a quei livelli? Allora, sarò sincero, anche perché mi sono confrontato con altri della squadra. Allora, con la fame che aveva sembrava gattuso. Cioè, proprio, davvero, io inizialmente non pensavo che, secondo me, la C, sì, la B anche, magari non titolare. Sarò sincero. Però poi, cioè, comunque aveva delle doti assurde. Cioè, da fermo ti faceva un lancio di 80 metri. Poi è bravo anche coi piedi. E poi ha il fiuto del gol. Perché comunque, facendo tutti i ruoli, poi, davvero, anche in allenamento, lui faceva tantissimi gol. Anche su calcio d'angolo, l'anno dopo, a Frosinone, ha fatto tanti gol di testa. E comunque, come mista aveva Fabio Grosso, che comunque ha puntato su di lui. Però, ritornando pro patria, lui, appunto, era uno che sul calcio d'angolo non volevi marcare perché, cioè, gomitate. No, davvero, era un bel dito in culo, se si può dire, per i difensori. Ritornando all'argomento. Sempre lì andiamo. Chissà perché tocchi sempre quelle parti lì. E niente, comunque, no, posso dire che non mi aspettavo che arrivassi in Serie A, sarò sincero, però sono molto contento per lui. Tra l'altro ci sentiamo. ci siamo pure visti in vacanza assieme. No, molto bello. Un aneddoto con Gatti? Visto che vi chiamava De Leone, Tigre, che sarà successo qualcosa che... Qualche roba divertente che è successa. No, diciamo qualche... Però se qua sono cose di spogliatoio, però vabbè, dai, la diciamo, ne dico solo una. Se non è troppo, troppo. No, troppo no, vabbè, gli avrà cagato nelle scarpe pure... No! Pure lui, in altro ci gioco, se non stai cagato nelle scarpe. Quello no. Non c'era tanto nonnismo in quell'anno, quindi dai, devo essere... Ah, in quell'anno? No, in quell'anno. No, ho vissuto esperienze, vabbè, peggiori. Vabbè, comunque, con Gatti, sì, vabbè, a parte qualche scherzo, ma nulla di rilevante, davvero. Magari ti affossavo un po' nei momenti... Se sbagliavi, ma come è giusto che sia. Poi io lì ero, tra l'altro, il più giovane. Quindi terzo portiere, più giovane, insulti su insulti, anche da parte dei giocatori, non solo dai minster. Però qualche episodio, cavolo, adesso non mi ricordo. Vabbè, qualche cazzata, quando eravamo in trasferta, c'è stata, però nulla di così... Cioè, che dici mi ricordo quella cosa lì. E come l'hai vissuto, allora, invece, magari i momenti brutti, no? Come quello che hai raccontato, cioè, quando magari ti è capitato di fare delle papere nel corso della tua carriera, soprattutto lato rapporto con i tuoi compagni, cioè, come sono stati loro nei tuoi confronti? Cioè, hai percepito comunque un po' troppo accanimento nei tuoi confronti? O comunque erano quei compagni che si rendevano conto del fatto che anche un portiere, no? Può capitare una giornata storta, può capitare di sbagliare, esattamente come capita all'attaccante davanti alla porta, di sbagliare un gol quando magari è facile, no? Signale. Sì, sì, diciamo che mi è andata bene perché, appunto, se l'avessi fatto in una prima squadra, cioè una prestazione così, un esordio così, sarebbe stato totalmente diverso. Mentre mi è andata bene che l'ho fatto comunque nelle giovanili e, cioè, essendo tutti dell'età tua, ti aiutano. E poi comunque quella partita lì, nonostante i miei due errori, tra l'altro sono uscito al primo tempo in quella partita lì. Cioè, non me l'ha fatta neanche finita. Meno male, va a dire, ho tempo per farne altre. Sì, mentalmente ero proprio instabile con la partita, perché il giorno prima avevo fatto serata. Infatti da lì non feci mai più una serata. Ai, 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 ai. Lo so, però appunto era il mio primo esordio, cioè, io prima giocavo a calcio, però era in una scuola ad oratorio. In Accademia Inter, appunto, il gioco si faceva più, si faceva sul serio, cioè era molto più seria come cosa. Ho detto, ma sì, dai, torno presto. Ho fatto le due, però si giocava alle nove di mattina. E sì, ok, cinque ore, sei ore, le ho dormite. Fai cinque ore, tutte le ho dormite, però mentalmente, appunto, non essendo abituato, era ancora la serata prima. E niente, infatti da lì non ho più fatto serata. Secondo te, i calci di rigore sono uno scontro alla pari? Cioè l'esito del calcio di rigore, nel caso in cui venga parato, è più merito del portiere o più demerito del tiratore, secondo te? Allora, beh, io proteggo la mia sezione portieri e dico merito del portiere, però secondo me, al momento del calcio di rigore, quello che è più in svantaggio, secondo me, è sempre chi tira. Perché comunque il portiere, se tu parli di rigore, hai fatto più del tuo, sei un fenomeno. Se prendi gol dici, vabbè, tanto calcio di rigore è un terno all'otto. Poi ovviamente ci sono mille, mille modi per, appunto, diverse teorie per pararlo, il piede d'appoggio, poi vabbè. Tu di che teoria sei? Allora, io inizialmente avevo, cioè da piccolo, soprattutto nei giovanili, lì non ti insegnano appunto il calcio di rigore, perché pare che capitava poco nelle giovanili, cioè quando sei proprio piccolo il calcio di rigore. Vabbè, comunque, lì proprio appena appoggiavo il pallone, dicevo vado, battezzo un lato. Mentre adesso è già più complicato, poi magari nelle categorie più alte studi chi hai, cioè i giocatori avversari. Se no, sei un giocatore nuovo, comunque non l'hai studiato, guardi tanto la rincorsa, la velocità con cui arriva sul pallone e il piede d'appoggio e anche un po' il baricentro del suo corpo. C'era questione di mille secondi, cioè proprio... Quasi più a sensazione. Quasi più a sensazione. Ecco, il mio magari vantaggio è che io aspetto sempre quel secondo in più. Cioè, in senso, non mi tuffo prima, magari. Ci sta l'anticipo, perché ci sta, però aspetto sempre quel secondo in più, perché penso sempre, se te la mette a fin di palo, bravissimo lui. Però se magari anticipi e ti arriva un mezzo centrale, non ci arrivi più, perché hai spinto oltre la porta e quindi io cerco sempre di aspettare quel secondino in più. Non dico che parte la palla e mi tuffo, perché se no non ci arrivi mai, però aspetto quel secondo in più, perché così magari se la tira a mezzo centrale, con i piedi, ne ho parlati tanti, con i piedi centrale. Io invece volevo chiederti sempre all'autoportieri, quanto è importante secondo te la comunicazione tra il portiere e la difesa? Iniziamo dicendo che la comunicazione è fondamentale per il portiere. Infatti, tanti settori giovanili rompono tanto le scatole, le palle su sta cosa qua. Anzi, è proprio anche una roba che adesso nel calcio moderno cercano per forza. Se il portiere deve parlare perché è l'unico che vede tutto il campo, quello che succede, bisogna dire poche parole nel momento giusto. Perché poi dopo c'è chi... A parte che a me non piace il portiere che sono una radio, cioè parlano tutto il tempo, però io sono più uno che parlo tanto, però dico cose inerenti alla partita. Oh, girati, oh, guarda, alle spalle... Sì, dai una visione da dietro, diciamo, della partita per, magari fargli notare quelle cose che loro, anche banalmente come linea difensiva, non riescono a notare perché hanno una visione diversa dalla tua. E' importante quindi anche proprio la personalità in un portiere. Sì, fa tanto la personalità. Infatti molti dicono che il portiere deve essere pazzo, anche perché secondo me appunto già è un ruolo difficile, ma secondo me ancora più difficile sono le uscite alte, comunque base il timing appunto di quando il pallone sta per partire. Poi un'altra dote che secondo me aiuta tantissimo è quella di leggere prima il pallone, comunque l'intenzione del centrocampista, se vuole buttare palla sopra o un filtrante, ecco, lì aiuti tantissimo la squadra. E soprattutto partire sempre col baricentro in avanti, perché appunto questioni di secondi, questione di posizionamento. Tecnica e posizionamento secondo me sono le due cose fondamentali per un portiere, perché se sei ben posizionato poi in qualche modo la palla, cioè hai molte più probabilità di prenderla. Se non sei posizionato bene puoi spingere anche tre metri d'altezza, però se non sei ben posizionato... Senti, a proposito di calcio moderno invece, adesso, at today sempre, quanto è importante per un portiere saper giocare con i piedi? Tra l'altro, scusami per aggiungere qualcosa alla tua domanda, tu in un video dove dicevi sono un portiere, è ovvio che sono un portiere, è ovvio che non so giocare tipo con i piedi, con un'arborigine, però hai i piedi a stiglio, ho i piedi montati al contrario, esatto, quindi tu che tipo di portiere sei anche? No, è importante, soprattutto nel calcio moderno, che vogliono che il portiere comunque giochi tanto, 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 soprattutto nelle società professionistiche, ripartire dal basso, adesso sta sempre diventando più importante. Infatti hanno aggiornato la regola, quella che adesso i giocatori possono star dentro l'aria, prima non si poteva, e tra l'altro succede tantissimo che il difensore adesso passa la palla al portiere e inizia l'azione al portiere, perché così fa uscire un attaccante, si libera un giocatore e da lì poi parte l'azione. Qual è la partita invece più bella della tua carriera che ti ricordi? Magari sei stato un momento emozionante nel corso della tua carriera, non so. Allora, la partita più emozionante è stata quando ho vinto, io dalla Serie C poi non mi hanno riscattato, perché poi dopo partiva il contratto da professionista non è stato possibile, non me l'hanno fatto, e sono andati in eccellenza. In eccellenza, l'ultima partita che ho fatto con quella squadra lì, abbiamo vinto il playoff, quindi siamo andati in Serie D, ecco, quella è stata la più bella, perché poi tra festeggiamenti e tutto è stata bella, però non per parate, ma proprio a livello di felicità, cioè a livello di emozione, è stata la più bella. Per quanto riguarda parate, invece con il Novara, quella partita lì che ti dicevo, il primo esordio dei professionisti, perché ho giocato veramente bene ed appunto era la mia prima partita dove mi interfacciavo comunque con giocatori di alto livello. Ottimo. Io direi, possiamo passare, dopo queste domande sul campo, giocate, passiamo al campo giocato, ma lato social. Social. Quindi ti chiedo, come nasce il personaggio di Dile? Quando? Perché, insomma, come ti avvicina al mondo social? Allora, tutto inizia grazie a una mia conoscenza, vabbè, la conosceranno tutti, Andrea Fratino. Ah, è stato lui a buttarmi dentro. Ci siamo conosciuti in un torneo, appunto, quei 12 ore famosi, calcio a 5. Quest'avamo in discoteca. No, in discoteca no. eravamo io, Jay Bada, sono forte anche in senato. Jay Bada con D-Sanronno Redsburg, Fratino con Vodka Redsburg. Vabbè, appunto, in un torneo a 5, da lì in poi, mi lasciò il contatto, ci siamo sentiti, per qualche allenamento, o qualche tiro, ed era lì da poco, che erano nati i Seven Sins, quindi calcio a 7, così, lui prima era solo calcio a 5, giocava, adesso calcio a 7. E ci siamo visti in un campo, ma dopo un po' di tempo è passato. Tramite Abe mi ha detto, dai vieni che c'è anche fratino. E poi faccio, va bene, va bene. Poi era un periodo dove non giocavo, quindi ho detto, ma sì, va bene, sti cazzi, vado. Da lì poi son piaciuto, fa, no, no, in casa è fortissimo, adesso ti porto su YouTube, se ti vai, faccio, sì, sì, va bene. Poi da lì son piaciuto, infatti il mio primo video, la mia prima comparsa su YouTube, è stata sul canale degli Elei, di Luca Campolunghi e Andrafatino, ed era una sfida, la five shot però, tra Luca e Andrea. Da lì son piaciuto, mi è piaciuto un po' il mondo, ovviamente per quel poco che avevo visto, mi sono sembrate subito persone umilissime, Luca e disponibili, e Andrea, e poi sempre da lì mi ha buttato sempre più in mezzo, e niente, poi comunque pensavo che avessi il potenziale, e perché no? Lì feci anche il primo passo falso, lo dico, preso dal momento, sai, magari vedi un mondo diverso, hai quella adrenalina lì che piace, vabbè comunque tramite loro conosci gente che è sempre più dentro al mondo dei social, ma non che ti sente arrivato, però magari inizi a fare cose che non facevi prima, ad esempio in quei momenti c'era Fene, cioè che tra l'altro è il miglior amico di Andrea Fratino, infatti dentro di me diceva, ma perché cavolo, mi aiuta comunque, mi spinge tanto Andrea, vabbè adesso io cammino con le mie gambe, però lui mi ha dato una gran mano, e dentro di me dicevo, ma cavolo, ma perché, c'è come miglior amico un portiere, andiamo comunque, ci scontriamo, diciamo così, infatti feci il mio primo passo falso, con una storia, dicendo, ragazzi, io non ero nessuno, ma ancora adesso non mi reputo nessuno, e dicendo ragazzi, è meglio, io Fene, cioè lì mi batteva 100.000 a zero, ma anche adesso, lui ha YouTube, fa 8 milioni di numeri su YouTube, per dirti, quindi non sto qua a confrontarmi, però era nata un po' questa, non lite, però questa faida tra me, questo dissing tra me Fene, ma è nato e morto lì, poi ci sta che, comunque, non dico che sono geloso, però vabbè, ci sta è giusto. È un'invidia sana, è una gelosia sana. È un'invidia sana, ma sì, magari tanti dicono, no, non provo invidia, ma in realtà dentro la provi. Per te è meglio Dile GK, tra i pali? C'è la tua vita, come vita parlo, Dile GK o Alessandro Dilernia? No, tutta la vita Alessandro Dilernia, perché, ripeto, prima, ma anche a livello di ritmi, cioè adesso io, vabbè, io quest'anno comunque ho giocato in promozione, un ottimo campionato, tutto quanto, però prima, però adesso sono Dile GK, prima Alessandro Dilernia, Sere C, ero, cioè, ero arrivato a un livello dove mi tiravano e facevano veramente, i giocatori di Sere C facevano fatica a segnarmi. Comunque c'era gente, c'era Latte Latte, che non so se lo conosci, quello dell'Atalanta, che adesso è in Sere B, nella seconda divisione inglese, cioè la Sere B, bravissimo, e poi comunque i giocatori, c'era Gatti, poi quell'anno lì abbiamo affrontato la Juve, l'Under 23, c'era Ranocchia, Fagioli, comunque lì veramente mi reputavo mai arrivato, mai arrivato, però c'è sempre quell'inconscio che ti dice, cavolo, sono un passo da essere un calciatore professionista, però vi dico una cosa, a me non piace la vita da calciatore, cioè io non farei mai il calciatore di Serie A, non mi piace, cioè a me piace il calcio, sì, ma non il calciatore di Serie A, comunque non ci sei ancora arrivato in Serie A, non puoi sapere, anche perché magari in Serie A, la vita dei calciatori non ti piace adesso, però magari te la fanno piacere, se prendi 3 milioni l'anno, sì, però ho fatto anche il calciatore di Serie C, che comunque, ok, ti alleni tutti i giorni, ti allenavi anche la mattina, e già lì inizio a vedere un po' di calcio vero, però non mi piaceva, cioè a me è stare tutti i giorni al campo, tra l'altro ho visto anche tutta l'intervista completa di Gepata, e mi ci rivedo, che è che lui ha fatto Inter, però comunque in Serie C, tutti i giorni, vai lì, palestra un'ora prima, l'allenamento inizia alle 2 e mezza, tu sei lì già dall'una e mezza, sotto il sole, fare magari adattamento, rinforzo, cioè c'è tanto lavoro dietro, e a me non piace, non è che non piace, però piace, ma cavolo è pesante, davvero pesante, poi ok, pigli tanto, perché vai a prendere tanto, però comunque, diciamo che sei un po' il burattino delle società, poi adesso in Serie A, ok, prendi, e quindi un po' si smaschera tutto, però nelle categorie più basse, già tipo dalla Serie D così, iniziano, cioè se non giochi bene, ti iniziano a non pagare, però vabbè, non vorrei entrare in questi discorsi, anche noiosi però, ma lui sì, lui vuole entrarci, no no, non ci voglio entrare, io sono solo curioso di sapere, un ragazzo che giocava, nelle giovanili della propatria, che poi viene aggregato alla prima squadra, fa il terzo portiere, comunque in una squadra di Serie C, a livello di retribuzione, cioè nel senso se sei retribuito, se comunque ci vivi, ci campi, come funzionava, cioè tu comunque quando eri alla propatria, quanti anni avevi, hai detto? Appena compiuto il 18, 19, non arriva a contratto la professionista, ha detto? Però avevo il pre-contratto, pre-contratto, avevi già sponsor anche? Eh no, non avevo sponsor. pre-SRC, ok, cioè ci vivi, era quello il tuo lavoro, eri comunque ancora mantento, con le tue vittorie? Ti dico che io facevo la quinta superiore, quindi quel guadagno, cioè erano tutti i soldi che, più o meno, sono riuscito a mettermi via, e niente, anche perché alla fine di quell'anno, mi sembra che sono andati Ibiza, e quindi quei soldi sono andati, più che volentieri, però vabbè, esperienza, e lì tra l'altro ho incontrato Gatti e Ibiza. Avete fatto Sarata? Non si dice, dai, non si può, no sì, abbiamo fatto Serata, sì, ci siamo divertiti, ci siamo divertiti. Andando avanti ti direi, sempre tornando all'argomento social, che comunque ho trovato una risposta un po' discordante, cioè dici che preferisci Alessandro Di Lernia, però non vorresti mai fare la vita da calciatore, quindi preferisci la vita da Dile GK, giusto? Sì, preferisco Alessandro Di Lernia per quanto riguarda le mie performance, per quanto riguarda le prestazioni. Il calcio, ti piace il calcio? Cioè proprio le mie prestazioni, Alessandro Di Lernia era un altro portiere. Adesso qualche sfaccettatura c'è ancora, però vabbè, dai priorità anche ad altre cose. E invece l'ambiente calcistico, preferisci l'ambiente calcistico professionistico oppure calcio del web? No, web, web. Calcio del web sì, perché appunto professionistico avrai sempre qualcuno che ti romperà le palle, anche se fai la miglior prestazione ed è giusto così, perché comunque ti pagano e... È un lavoro. Sì, sì, anche sul web, però sei più comunque artefice del tuo destino. Cioè anche lì, se sbagli sono fatti i tuoi, poi dopo... Sì, comunque, io per dirti, vabbè, non sono sotto agenzia, poi non so se si può dire questa cosa, non sono sotto agenzia né niente, però adesso sono artefice del mio destino, se sbaglio a fare una cosa, se faccio dissing con una persona e sbaglio, cioè sono fatti miei, sono cazzi miei, se poi dopo magari per un periodo non si parla più di me. Quindi è per quello che magari mi piace più dire, che mi piace più il web, anche se anche lì ci sono tante doppie facce, però vabbè, si sa. Chi è invece il personaggio del web che ti ha messo più in difficoltà nelle varie sfide, challenge che hai fatto su internet? Allora... Il cane su internet sembra un mio... Internet! Vabbè, hai capito? Sull'internet. Allora, per me il calciatore più forte, che mi ha messo più in difficoltà, vabbè, Sergio Cruz, Sergio Cruz, si vede che ha giocato, il calcio vero ha giocato, però invece, uno che soffro, e secondo me soffre anche lui, è Andrea Fratini. Cioè io proprio, non è che soffro, però mi piace un sacco avercelo contro, soprattutto anche in Got League, ad esempio quando mi calciava gli shout-out, quando mi calciera, spero, uno shout-out, cioè proprio sentivo quella cosa lì che diceva, cavolo, se glielo paro, cioè c'era quell'adrenalina che mi faceva stare bene e comunque anche quella pressione che... Devo dire che il ragazzo sullo shout-out è molto forte, non si fa bucare. Ma non solo, ma non solo, infatti io mi ricordo nella Five Shot, cioè me la sono guardata tutta, tutto il torneo della Five Shot, hai fatto delle parate incredibili in alcuni momenti, tanto che Blur, cioè, è innamorato pazzo di te. Come ti sei sentito? Quando hai visto insomma quel tipo di reaction, quell'esaltazione? No, allora sono veramente appunto onorato, non me lo sarei mai aspettato che comunque mi prendesse così, cioè in simpatia e quindi diciamo che Blur è stato un po' una grandissima mano, però sono rimasto un pedino deluso, un pedino deluso perché, vabbè, mi aspettavo una chiamata in quel famoso mondiale che si è giocato appunto, perché ha fatto tantissime clip poi di fronte a Viviano, giustamente, alzo le mani ma ci sta, ci sta. Poi io, vabbè, adesso sono legato alla Got League, fiero di esserne parte, quindi... Eh, magari anche per quello comunque che non ti ha chiamato, cioè nel senso, stando già in Got League, ovviamente un po' vanno in contrapposizione. Ma poi comunque vedrai che piano piano, step by step, tempo al tempo. Cioè, se sei del 2002, cioè sei giovanissimo, voglia te al percorso che c'è davanti. Invece qual è la tua qualità calcistica migliore? L'uno contro uno, il rigore, il tiro da fuori, parata alta, parata bassa? Allora, io mi reputo molto forte e soprattutto umile, molto forte sui calci di rigore, però appunto è una cosa che non accade spesso. Ripeto, il posizionamento e la reattività, la reattività. Magari non ti faccio la parata sotto l'incrocio con la mano di richiamo, incrocio le gambe, cioè proprio parata sotto l'incrocio non ne faccio, ma secondo me il mio punto di forza è che faccio sembrare facili parate difficili. Ecco, diciamo così. e magari appunto non arrivo sotto il sette con la spinta, però a me piace essere più un portiere concreto, più efficace che il portiere bello da vedere. Può essere diciamo come si, come posso dire, può essere magari un c'è un sasso dentro la scapa, nel senso un problema perché appunto sul mondo dei social magari va molto di più la parata sotto l'incrocio, però vabbè penso di ricavarmela con altro dai per quanto riguarda il mondo social. Perché i social richiamano lo spettacolo e mi vogliono la parata spettacolare. Sì, sì, sì. Io volevo chiederti visto che comunque stavo così, infatti lui ha riso perché stavo così che stavo... Vabbè rimetti cosa che ci fa? Misura il vento, misura il vento. Volevo chiederti visto che comunque abbiamo parlato della tua giovanità, abbiamo parlato delle qualità, delle tue qualità che comunque non è che sono finite, ci possono essere ancora coltivate, sviluppate e migliorate. Pensi che il tuo sogno da portiere, professionista ci ha svanito? Allora, io purtroppo devo dirvi sì, perché ma è anche... cioè non punto a quello adesso, non punto a diventare un professionista. Prima ti avrei detto sì, adesso guardando un po' le cose no, ma anche perché cioè potrei arrivare sì, ti dico, se mi ci metto come prima ai tempi d'oro, però secondo me anche i centimetri di alta, io non sono altissimo essendo un portiere, cioè per fare il portiere a livelli alti devi essere anche alto, minimo 1,90, minimo. Poi vabbè, c'è l'esempio di Sommer, però quanti come Sommer, Giulio Cesar ci sono? Cioè pochi, pochissimi e poi comunque anche come mai non ho mai fatto un settore giovanile Inter, Milan, Torino, comunque società di Serie A, anche perché guardano tanto l'altezza e soprattutto per il portiere, cioè preferisco prendere un portiere che è alto, ma magari con tecnica inferiore perché comunque la tecnica poi sempre faglielo imparare. Visto che hai parlato di non è l'obiettivo che vuoi raggiungere, deduco che magari il tuo obiettivo è diventare il portiere più riconosciuto, più forte del web. La domanda che volevo farti è come, dove ti classifichi all'interno dei portieri del web pensi di essere il più forte? C'è qualcuno più forte di te? Allora, a livello cioè di pensazioni sul campo di essere più forte vabbè io, cioè mi reputo il più forte ma sì, ok, poi magari ripeto, io in tanti mi fanno questa domanda chi è più forte, chi è più forte, ti reputo il più forte, io dico sì anche per quanto riguarda un po' l'autostima personale ma anche poi ci sarà sempre la giornata, la partita dove uno spicca di più uno spicca di meno però secondo me a livello di percorso cioè mi sento proprio di essere più forte a livello di numeri no ovviamente cioè chi è più forte di me perché bisogna guardare anche questa cosa qua però posso dire di avere un bel pubblico di gente che mi segue e per questo vi ringrazio io quello che volevo chiederti invece era di farmi una top 5 dei giocatori più forti secondo te dalla God League da portiere tosta tosta allora ma cavolo proprio top 1 top 2 o ti dico fammi una top 5 dai le prime tre potresti provare a sbilanciarti va bene allora sicuramente se la fammi una top 3 dai così un po' più corta vedi tu o top 3 o top 5 come preferisci top 5 così magari non escludo qualcuno e si prende male no vabbè ovviamente ragazzi se guardate queste clip ci stiamo scherzando ma nella clip non ci sarà questa parte in cui dici che stai scherzando vabbè per chi sta guardando una puntata integrale cioè uno non gli possono venire in mente in questo momento tutti i calzatori due non ve la prendete migliorate secondo me questa clip verrà totalmente decontestualizzata ma ci piace è questo è questo il nostro lavoro di le prime moments allora metterò tre miei giocatori ma perché mi trovo bene comunque li ripeto davvero forti Jay Pata non perché è stato qui anche perché è stato qui no è vero ti li dico e poi ti dico i posizionamenti dai così è più facile Jay Pata Bertocchi ok Conte non so se lo conosci l'abbiamo visto è quello là che gioca sempre io parlo di Got League poi calcio a 11 è un'altra cosa calcio a 7 loro il prof e cavolo l'ultimo ti posso dire ti posso dire ah il mio calciatore perché così prendo anche un difensore Gabrielli è il mio giocatore secondo me è il difensore più forte della Got League che c'è perché se no dirti solo 100 campisti attaccanti ti dico loro vabbè potrei dirti se invece mi fai la domanda per quanto riguarda gli influencer ti potrei dire Fratino quella gente lì però a livello di calcio loro vabbè non si è neanche sbilanciato troppo per quanto riguarda la classifica ma invece per quanto riguarda i portieri hai detto che tu ti metti al primo posto dopo di te? allora dopo di me allora metto io li farei del web a questo punto però no del web del web parlo di bravura non numeri followers a me non mi frega niente metto secondo posto Alessio Buono ok che anche lui cioè è un influencer a tutti gli effetti e Insta Keeper qua per me è alla pari tra Fene e Sergei cioè li metto sullo stesso piano ok quindi questi cinque mettendo loro due al quarto posto alla pari loro sì 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 e vabbè cioè metto sopra Insta Keeper perché c'ha quell'esperienza e poi comunque è grosso cioè chi lo affronta dice cavolo è veramente grande soprattutto nei shot out comunque importa è grosso quindi anche per l'attaccante lo intimorisce per quello allora dopo quest'ultima domanda io direi spostiamoci ai format ai giochi che non so se hai già visto un po' come funzionano qualcosina ho visto andiamo con i format primo gioco partiamo subito con le foto reaction ricordiamo sempre format europei cambiamo un po' di colori un po' di lucette tra poco lo vedono tra poco lo vedono mandiamo la sigla di foto reaction vai regia sigla partiamo con la prima fotografia te la mostro io foto reaction semplicemente ti mostriamo delle immagini tu devi reagire dicendo che cosa hai vissuto cosa hai provato in quel momento magari se vuoi visto che te lo spoilerò sono foto più a tema portieri parata portieri che cosa ne pensi di quella parata ok ci siamo il tuo giudizio generale partiamo con la prima fotografia che è questa qua che dire io tra l'altro non l'ho neanche vissuta avevo quattro anni però posso dire che ha segnato un mondiale possiamo dirlo si ha segnato un mondiale ed è un gol cioè quella parata vale come un gol reattività perché poi ha tirato un'incornata di testa di Dan assurda reattività clamorosa da parte di Buffon tra l'altro è il mio idolo Buffon lo diciamo coefficiente di difficoltà coefficiente di difficoltà da 1 a 10 è questo 9 ce l'ha tutto perché devi valutare che comunque sei al mondiale ci sono tante tante dinamiche qui invece è un po' più grandicello forse è anche già portiere è questa anche questa questa secondo me è più difficile sì sì è più difficile perché allora secondo me se l'è un po' ciucciata l'attaccante diciamo così poteva far sicuramente di più però dal punto di vista tecnico del portiere anche qua sempre reattività e questa anche qua 10 10 perché come dicevo prima la reattività per me è importantissima poi soprattutto istinto qua qua istinto perché era un pallone mezzo e mezzo alzato il braccio e la presa gli è andata anche un po' di fortuna ma a volte serve anche quella tra l'altro è proprio in quella parte in cui solitamente è difficilissimo per il portiere prendere un pallone perché è proprio a metà tra la testa c'è proprio uno spazio in cui i portieri fanno davvero tanta difficoltà a prendere il pallone mio papà diceva ma gli hanno tirato in faccia ma ci deve stare lì cioè un portiere forte deve capire che deve stare lì poi che l'attaccante gliela tira addosso comunque lui si è messo all'angolo quindi gliela ha tirato addosso ma comunque è angolata io è importante tu mi confermi il posizionamento di un portiere ma infatti molte volte l'attaccante quando te la tira addosso ma cioè lì è bravura del portiere essere posizionato lì perché se non fossi stato lì non era addosso quel pallone poi molte volte magari quel tiro lì se Buffon non la prende così e va in porta magari ma non mi ricordo bene la traiettoria però poteva essere un pallone centrale come poteva essere un pallone angolato quindi appunto perché ha chiuso lo specchio e distinto alzando il braccio l'ha tirata fuori dai andiamo avanti con la prossima foto ti lascio bere giusto quei due secondi intanto ti dico che questa qua è proprio recente è una parata importantissima recente e questa sì mi dai parate solo importanti però dai meglio così non mi metti in difficoltà tra l'altro è stata la parata cioè ha parlato il rigore e non se ne era manco accorto che era il rigore decisivo mi sembra il rigore decisivo e non se ne era manco accorto Donna Ruma di aver fatto vincere la squadra e lì ce l'ha fatto vincere anche qua c'è molto c'è molta divisione tra chi dice Donna Ruma portiere fenomenale portiere scarso invece secondo me ce l'ha fatto vincere quello europeo ha fatto parate assurde contro il Belgio contro l'Inghilterra c'è comunque parare due rigori ha parlato due rigori due rigori cioè folle su Saka e su Sancho infatti sì non l'hanno calciato benissimo però vabbè pararlo però devi comunque beccare l'angolo cioè tu comunque secondo me già solo la presenza di Donna Ruma in quel momento ti intimorisce ti porta a sbagliare andiamo avanti qui un altro calcio di rigore molto importante importantissimo importantissimo a me io sono tifosissimo di Italia ragazzi non posso celarlo mi spiace Messi Maradona Baggio del Piero Sivoli di Stefano Pelè ah ci hanno commentato scusa devi togliere l'internet fra che mi arrivano i messaggi non capivo taglio taglio avanti voglio questa cazzo di foto è questa qui voglio una tua opinione anche a livello psicologico qua penso che sarà andato cioè non si sarà addormentato facilmente dopo questo rigore a parte che per fare una roba così era un europeo europeo sì la Italia in Italia in 2012 quarto di finale che dire dalla parte di chi calcia Pirlo cioè lui è uno di quei giocatori che giocava con la sigaretta che gioca con la sigaretta per fare una roba così ci vuole prima di tutto personalità perché se sbagli ti insultano però cosa io vuoi dire a Pirlo per quanto riguarda invece il portiere deve essere stato difficile comunque prendere un gol così però secondo me quei livelli lì non te lo aspetti cioè in queste partite qua fondamentali cioè tu non ti aspetteressi mai il cucchiaio di Totti di Pirlo cioè non te lo aspetti infatti cioè quasi nessun portiere para cioè i pallonetti poi vabbè magari in partite di campionato sì però gli europei mondiali cioè partite veramente che contano finale di Champions cioè è difficile che comunque un portiere e sia lo stesso giocatore faccia il pallonetto quindi beh guarda l'udinese non si è qualificato alla Champions perché Michael Suell fece un panenca del genere quindi stiamo là lo ricordo davvero il cucchiaio di Michael Suell è storia ragazzi è storia però lui lo fece male è malissimo disastro in simbiosi l'abbiamo detto era schifo malissimo ultimo calcio ecco scollerato ultimo calcio di rigore ultima immagine un calcio di rigore un altro calcio di rigore questa volta però voglio sapere sempre dal lato del portiere e anche del momento perché comunque è un momento importante la tua reazione lo conosci lo conosco lo conosci no dico la telecronaca di caressa scusami la telecronaca di caressa lo conosci chissà quanto viene parata in allenamento Gigi qua posso dire che sai che non so se secondo me godi di più a pararlo sicuramente però anche che lo sbagli perché comunque un attaccante che sbaglia il rigore cavolo ok che ci sono mille pressioni però è difficile quindi secondo me ovviamente godi di più a pararlo però lì penso che le emozioni da portiere sono tantissime è come se l'avessi parato non è uguale però la sensazione è quella il classico bacio al palo tra l'altro noi quel mondiale l'abbiamo vinto senza sbagliare un rigore e senza neanche pararne uno vero assurdo tutti speravano che ne parassi uno questo papà odia buffone perché non gli ha parato un rigore nel 2006 però minchia le ha fatto vincere cazzo dai allora cazzo prendo il telefono andiamo con il secondo format ovvero le tre scelte avrei anche già un po' fame io sinceramente anch'io ce l'ho un po' di fame sulle due però adesso finiamo mandiamo la sigla del secondo format le tre scelte versione giocatori sigla vai ci siamo ci siamo caro Dile abbiamo le tre carte di fronte a te allora glielo spiego io così davanti a te hai tre carte sulle quali ci sono scritti tre nomi di tre portieri abbiamo fatto questa volta sull'attualità i portieri di Euro 2024 quindi non devi prendere scelte strane devi scegliere diciamo classificandoli primo secondo e terzo facile dai parto da qua lui c'è un riscato che non l'ho letto Donnarumma 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 per me titolarissimo nazionale metto a me piace metto primo top 1 top 1 subito primo senza sapere quindi chi c'è top 1 subito sì sì a me piace tantissimo Donnarumma senza sapere chi c'è per te questo è più forte è più forte sì ci sta a mio parere anzi voglio che nei commenti mi ammazzano però io la penso così cioè ad oggi fatteci sapere nei commenti anche voi vai quindi questo top 1 sì 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 Donnarumma Donnarumma l'hai messo primo vai col secondo vai pensavo di prendere subito lui è il mio preferito prendo dai prendo questa Magnan 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 fortissimo anche lui però terzo terzo un po' altalenante nell'ultimo periodo però non si possono discutere le sue capacità quindi terzo hai preso quello che aveva prima il Milan e quello che ha ora il Milan sono curioso di vedere la seconda posizione vai mettila lì e fai la tua prediction dai scontate chi c'è solo Milan praticamente no dai è a tema Euro 2024 infatti infatti no sto pensando Neuer sarà secondo me è Neuer vediamo se hai azzeccato o no infatti Neuer Neuer dopo ieri poi ieri ha fatto una prestazione assurda però Germania-Scozia Germania-Scozia sì Germania-Scozia prestazione assoluta fortissimo è vero rivedrei la classifica sì però io essendo italiano e io penso che la scuola italiana dei portieri sia la più forte del mondo quindi lo metto Neuer seconda è un po' una bestemmia però però se lo prendi ad oggi e non nel prime ci può anche stare cioè Neuer forse ad oggi è ancora comunque è sempre lui è sempre lui comunque l'equivalente per la storia devi mettere Neuer primo senza discussione però ad oggi ti metto Donnarumma anche per la scuola italiana portieri cambiamo le carte andiamo dentro con il secondo la seconda parte del formato questa volta visto che ragazzi per voi a casa gli allenatori dopo un po' sono quelli non è che possiamo fare a tutti gli ospiti sempre Conte, Spalletti Lippi eccetera abbiamo fatto anziché gli allenatori siamo un po' tornati indietro al format che c'era prima prima di Euro 2024 quindi facciamo le squadre quindi avrai di fronte a te tre squadre quindi mandiamo dentro la sigla delle tre scelte versione squadre spieghiamoglielo subito davanti a tre davanti a tre hai te carte questa volta sono delle squadre come abbiamo visto anche dalla sigla versione squadre te lo spoileriamo sono tutte la stessa squadra bravo la stessa squadra vabbè ma è normale dai lo sa sono tre versioni della stessa squadra ok tu dovrai scegliere sulla base di o quella che ti ha fomentato di più o quella che secondo te è più forte quindi prendi tu la tua decisione praticamente la scelta la stessa di prima quindi chi quale classifichi come prima quale classifichi come seconda e quale classifichi come terza puoi dire sia a livello appunto affettivo che anche la valutazione degli organici dell'epoca ok mi raccomando anche voi qua sotto nei commenti scannatevi dicendo quali scelte avreste fatto vai sto giro inizio dalla parte opposta Italia 2016 quindi quella dell'europeo proprio della parata di buffon su Mario Gomez quella che viene eliminata ai quarti di finale contro la Germania ai rigori con Pellè e con Zazza allora non sapendo le altre tosta tosta però cioè ero tanto fomentato di quest'Italia perché poi con amici dai metto top 2 top 2 perché spero ok che siamo usciti però mi sentivo proprio dentro in quella lì grazie a Conte cioè perché l'organico davanti non era forte per niente cioè lì come Conte ti ha fatto innamorare di quell'Italia rimanere attaccato così al televisore dovete ricordare i dettagli perché c'è un po' certo però Conte sì Conte davvero è molto fortissimo come allenatore questa qua Italia 2012 Italia 2012 ricordatemi qualche avvenimento finale dell'europeo Ballotelli questa è quasi la top 1 solo per le risultanze di Ballotelli no beh valutalo comunque non solo per le risultanze di Ballotelli no lo so allora cavolo qua vorrei no però dai la metto terza terza e mi affido tutta l'ultima carta e quindi l'ultima l'ultima vediamo se hai pescato bene alla prima posizione Italia 2021 ti è andata bene benissimo infatti potevo immaginarlo dai potevo immaginarlo perché sei piccolino sei stato fortunato che sei piccolino è andata bene emozioni fortissime se lì ci stava quella del 2010 sarà sbagliato il nostro amico Mariano no qua tanta roba perché tra l'altro pure in vacanza a Gallipoli abbiamo vinto in finale cioè emozioni uniche quindi tanta roba dai ottimo siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine l'ultimo format format chiamato centrocampo all star noi adesso mandiamo la sigla e poi ci vediamo te lo spieghiamo va bene sigla di centrocampo all star via centrocampo all star versione centrocampisti bella la versione in Italia zio ah vabbè versione centrocampisti che stava tengo in realtà siamo già passati direttamente ai nomi abbiamo già fatto off camera già scritto i nomi non abbiamo neanche ancora spiegato abbiamo spiegato off camera come funzionava il centrocampo star perché tanto tu l'avevi già vista le nostre puntate eppure loro lo sanno accorciamo i tempi qua davanti a te hai schierato i cinque centrocampisti svelali in cam i quattro scusami non sa neanche contare no no è vero perché da qua una prospettiva strana i quattro centrocampisti svelali una alla volta e li fai vedere in cam e li spieghi va bene breve motivazione vai parto con quello che mi piace di più dai vai lui 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 prendo Pirlo vabbè fantasista cosa gli voglian dire a Pirlo e si inventava palloni giocate formidabili vabbè io vi do un punto di vista portiere quindi vabbè però anche tu puoi darlo è tifoso infatti no no lo so questa che lui da un punto di vista spesso e volentieri non ha nessuna competenza né nessun tipo spara stronzate apposto ci siamo incerti tutti gli sponsor da adesso fino a dicembre passiamo all'opposto di Pirlo se posso dirlo eh sì qua sì Gattuso Rino Gattuso a me piace lui perché legna come un fabbro e ci vuole per me uno dei quattro deve essere che legna torna va insulta pure il mister l'Ancelotti vale tutto con Gattuso vale tutto prossimo prossimo the next one Marchisio Marchisio anche lui fantasista di questo centrocampo a quattro per me in sintonia proprio d'accordissimo con Pirlo e si inventava gol anche lui giocate Pirlo Marchisio in mezzo bella copiata sì 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 perfetto e l'ultimo che hai inserito? è morto Gattuso è morto Gattuso è morto Gattuso è caro quantità qualità e quantità assieme è un po' un gattuso Pirlo tutto assieme cioè ti corre dappertutto fa tanto per la squadra abbiamo tirato via le carte centrocampo lo star schierato spiegato io ho un'ultima più che curiosità una domanda da farti vai Got League chi vince? la vincete voi? la vince la furia roca guardando fisso in telecamera la furia roca ma quella ah quella cavolo mi pensavo se è quella guardando guardando con Giuda la Got League la vincerà la furia roca segnatevelo segnatevelo la mia squadra bello bello convinto il portiere più forte della Got League la squadra più forte della Got League basta non chiamiamo più nessuno la decide cioè d'ora in poi è solo peggio la decide Dile Prime dopo essere passata a centrocampo abbiamo dato la benedizione a lui e a Pata non può non vincere vai datemi un'esultanza la faccio la domanda datemi un'esultanza da fare vai se vinci separo uno shoutout e se segno faccio quell'esultanza che mi dite pari lo shoutout ti alzi fai così e poi farà C la C con la mano da dove veniamo centrocampo la C con la mano da dove veniamo centrocampo noi ovviamente ovviamente come è giusto che sia auguriamo il meglio del meglio al portiere che ha vissuto il calcio vero ti auguriamo di tornare a viverlo anche se tu non vuoi ma ti auguriamo di tornare a viverlo perché come detto prima di Lernia batte 50 volte ti auguriamo ti auguriamo soprattutto di guadagnare tanti soldi che è quello l'importante e poi mi raccomando manda tutti gli estratti conti a Bende che deve monitorare la classifica di tutti gli influencer italiani ti auguriamo veramente di vincere la gott league anche se abbiamo capito che se vince una sega quindi vinci la gloria porti lo scudetto della gott league una pecionata è stata allucinante e basta ti auguriamo il meglio insomma l'abbiamo già augurato una volta facciamo due facciamo tre ti ringraziamo dai ti ringraziamo per essere passato porco diaz mi sto passato per essere stato qui con noi a centrocampo grazie a voi è stata davvero una bella puntata dove abbiamo parlato finalmente di un ruolo che a volte viene lasciato un po' in disparte delicato considerato poco come hai detto tu giustamente delicato però molto importante se lo ricordano solo quando fa la differenza il ruolo del portiere possiamo concludere qua possiamo concludere così con questa perla appunto voi vi iscrivete ci commentate ci mettete like seguite DileGK se ve va a me non interessa e noi ci vediamo lunedì per l'episodio 15 15 ma c'è questa cosa che mi devi far dire le cose stavamo in due c'è una Apple star versione ti vuole mettere in difficoltà ti vuole mettere in difficoltà Ben e Jenny vi salutano ragazzi ciao ragazzi alla prossima ciao belli ciao ciao non ti muovi da qua non mi muovo